A caratterizzare la nuova collezione di Archetipo Firenze e soprattutto la personalità. Il nuovo Vadella That's Life che abbiamo creato quest'anno insieme a Mauro Riparini vi dà la sicurezza, comfort e design inconfondibile. La composizione, l'equilibrio e la disarmante contrapposizione di materiali Roxanne fonde tutte queste note. I materiali sono i veri protagonisti dei tavolini Air Humors con i suoi vari marmi. Fra la struttura in legno di Eucalipto e Zebrano, la sezione in vetro fumè Brooklyn è un prodotto di straordinario ingegno. Avalon si distingue grazie alla pregiata brunitura metallica della base post sotto all'etero disco di vetro fuso in due colori. Con il modello Close to Me abbiamo cercato di creare una nuova icona nella collezione di Archetipo Firenze. Le pietre che abbiamo selezionato uniscono bellezza e una nota discreta di glamour. Con la sua stampa 3D, Flashback ci preieta ancora una volta al futuro. I tavoli joystick uniscono lo spirito giocoso alla precisione assoluta. È un tavolino ideale per accompagnare una vasta gamba dei nostri divani, poltrone e letti. Vi aspettiamo nel nostro showroom in Archetipo Firenze.